Che se lui avesse fatto quello che ho fatto io, io ci sarei rimasta malissimo e quindi ho detto devo cambiare, cioè comunque io lo amo questo ragazzo e gli voglio dimostrare che di me si può fidare. Però già che lei in questo momento sta dicendo queste cose, pensa che a te faccia piacere. Infatti mi fa molto piacere. Che si sia resa conto. Sì, 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 mi fa molto piacere e la vedo anche più matura sinceramente. Lui per me è importante. Idem per me, lo sai. Sì, poi io comunque... Però lei si sta commuovendo mentre dice queste cose. Perché io comunque lui, io a lui lo amo. Non riesco nemmeno a parlare perché quando parlo mi emoziono. Perché io so di aver fatto del male alla nostra storia. So che la colpa è tanto mia. Perché è vero che mi ha dato delle mancanze. Ma non per questo le dovevo ricercare in un'altra persona, ma le dovevo risolvere con lui. Io questo lo so. Davide è una persona speciale. Io penso che poche persone avrebbero perdonato una cosa del genere. E quindi per me, ciò che magari può essere visto come una debolezza, per me è tanto, tanto, tanto coraggio. Perché sotto c'è tanto amore. È vero. Cosa ti auguri? Allora, mi auguro di uscirne più forte. Ho capito dove ho sbagliato. E capire ti porta a non sbagliare più. Tu Davide, cosa ti auguri? Da parte mia mi auguro di riuscire a vedere un futuro che attualmente non lo vedo. Quindi vivo giorno per giorno. A me questa cosa mi dispiace perché io lo vedo il futuro e lo vedo con lui. A me questa cosa mi dispiace perché io lo vedo con lui. miei giorni sono stati trovandoti da cuori di Worksheiter. Ho capito.